Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano sua altezza lo sceico Jabber Mubarak al-Hamad al-Sabah, primo ministro dello Stato del Kuwait. Nel corso dei cordiali colloqui, riferisce la sala stampa vaticana, sono stati passati in rassegna alcuni temi di comune interesse, tra i quali il positivo contributo che la storica minoranza cristiana apporta alla società kuwaitiana e ci si è anche soffermati sull'importanza dell'educazione per promuovere una cultura di rispetto e consistenza pacifica fra diversi popoli e religioni. Dopo l'incontro con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, è stato firmato un memorandum of understanding tra la segretaria di Stato e il ministero degli affari esteri dello Stato del Kuwait, sottoscritto rispettivamente dall'arcivesco Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati, e dallo sceico Sabah Khalid al-Hamad al-Sabah e ministro degli affari esteri. Con l'accordo le parti si impegnano a consolidare e rafforzare le relazioni bilaterali in favore della collaborazione reciproca, della pace e della stabilità regionale e internazionale. Si tratta di un'intesa che consolida ulteriormente i vincoli di collaborazione esistenti tra la segretaria di Stato e il ministero degli affari esteri dello Stato del Kuwait, specialmente a livello politico e culturale, e propone strumenti di consultazione tra le parti.